benvenuti alla nuova stagione di lezioni di stile irina tirdea vi augura un buon 2021 pieno di realizzazioni restate con me con stile grazie a tutti ciao a tutti siamo di nuovo in onda su iris tv irina tirda per voi il nostro iris talent show continua e avete sentito bene ce l'abbiamo tanto musica rock una novità un lancio sul territorio italiano loro si chiamano non pan chissà buongiorno domenico giusto detto bene sì giusto perfetto ciao buongiorno a tutti ciao domenico e non poteva mancare il nostro la nostra bella compagnia spotline production in carne ossa vittoria e anacone che il rappresentante giusto di non pan chissà è giusto vittoria tu correggimi magari sbaglio esatto esatto è giusto è giusto come in qualità di spotline promozione e comunicazione in questo momento stiamo presentando in italia in opan chissà sì questo è un buon esempio di quello che sta svolgendo appunto spotline production no si occupa a 360 gradi del dei talenti emergenti e non anche quelli che appunto si vogliono promuovere far conoscere sul territorio italiano e non solo ma io lascerei la parola a voi domenico se ci vuoi raccontare un attimo come nacque non pan chissà innanzitutto e come mai italia perché dobbiamo capire perché ti ritrovi in belgio giusto sì giusto 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 ci ritroviamo proprio in belgio per il gruppo tutta la banda sta in belgio e io sono nato in belgio però c'ho le origine proprio italiano e la fortuna che ogni anno da picco vado in italia dunque l'italiano è rimasto sempre nel sangue e con la lingua dunque come si direbbe tutte le porte vanno a roma no questo sì è un'espressione anche che si dice nel francese tutte le porte mentale origini non si perdono non si perdono mai e questo è molto molto importante ci ci fa piacere e perché no mi sa che un po di di rock ci voleva di chi sul territorio italiano perché si aveva un po perso questo genere musicale noi i grandi ormai sono anche un po stanchi un po sparsi ma non solo per la la situazione che la viviamo in questo momento ma questa aria fresca un po rock e non solo perché io ho visto nel vostro comunicato stampa che in realtà è un bel cocktail no di varie genere domenico tu correggimi se sbaglio sì beh all'inizio e abbiamo fatto un sacco di prove per trovare diciamo il nostro stile però sì il gruppo è da tempo che esiste però all'inizio proprio lì 2007 abbiamo trovato il piccolo inizio del gruppo però diciamo che sono tre quattro anni che il gruppo si è si è costruite si è ben stabilito diciamo ottimo ottimo quindi la scelta per l'italia è a causa delle tue origini o c'è un'altra realtà che lo volessi magari sviluppare qui sul territorio italiano con con la vostra musica già all'inizio pensavamo che il nostro la nostra canzone poteva essere diffusa in molti paesi il fatto che io sono italiano di cuore dall'inizio e che abbiamo conoscenze in italia famiglia in italia ma ho fatto ascoltare il brano amici specialmente a vittoria che stava proprio andando avanti con la spotlight dunque era normale che alla fine ci mettiamo insieme cerchiamo di fare qualcosa ci fa ci fa piacere vittoria vuoi aggiungere qualcosa come ti è sembrato questo progetto dei non pan chisa che poi dobbiamo parlare anche della scelta del nome molto originale devi spiegare cosa cosa vuol dire innanzitutto ma allora guarda io sono stata molto molto contenta e orgogliosa di accogliere proprio la band a parte che conosco domenica da 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 tanti anni di oltre che un grande artista a mio parere anche è una bellissima persona detto questo sono molto contenta perché credo che come anticipato anche tu in italia manca proprio un una band che ha queste caratteristiche e credo che in o pan chisa possono in qualche modo avere una differenza proprio come band sul sul territorio italiano infatti quello che noi stiamo cercando di fare adesso è proprio questo promozionare la band per far sì che in qualche modo possano farsi conoscere sul territorio e poi magari lo dico in diretta anche a te visto che sei comunque partner scelto della della spotlight mi piacerebbe questo mi piacerebbe valutare per i no pan chissà una data zero dove loro possono proprio fare un concerto in italia e far ascoltare insomma la loro musica questo è un lavoro che stiamo facendo ovviamente in base anche alle condizioni del covi certo no quindi devo capire che anche un concerto online no in modo virtuale lo state lo state sviluppando perché no penso che già a maggior ragione può avere un ampio pubblico no essendo anche se restate in belgio guarda un punto di vista amministrativo logistico ma di far sentire appunto la vostra la vostra musica un po dappertutto e specialmente in in europa e non non solo come 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 ti vedi in questa veste domenico lo so che come qualsiasi artista si il desiderio è da da poter cantare sonore interpretare no dal vivo però ci dobbiamo adattare no alle nuove condizioni anche perché penso che lo dobbiamo prendere un po anche per futuro non penso che una situazione solo momentanea almeno sembra almeno speriamo che diventa che che momentanea però no ma è vero che per noi è proprio una situazione un po speciale per per noi per tutti però per noi musicisti divulgare la nostra musica la nostra passione siamo un periodo un po speciale e si dobbiamo proprio adattare dietro ci vuole materiale ci vuole un tempo per capire come può funzionare tutto però è una cosa che si abbiamo già cominciato creare certe cose diciamo girando verso questa situazione virtuale che che non è alla base del nostro proprio piacere diciamo dunque si vuole il tempo ormai lo sappiamo l'abbiamo già detto non per l'artista da tutte le fasce no artisti siamo anche noi entriamo sempre in quella fase fai te non ci conoscevamo ma noi prima tutte le nostre trasmissioni non si svolgevano mai in un studio erano sempre live sempre con un pubblico quindi siamo i primi a metterci nei vostri panni e lo capiamo molto bene che è un'altra cosa no con il pubblico accanto però dobbiamo trattare di di fare del nostro del nostro meglio ecco vorrei capire bene quale stile di non pan chissa partiamo proprio dal nome come l'avevamo detto cosa vuol dire non pan chissa innanzitutto ma diciamo che il concetto del nome è un po particolare perché a noi ci ha piaciuto perché era una un gitarista che è passato nel ben da un'epoca che era un po fan di tutto quello che era giapponese o stavamo cercando un nome e non era facile trovare un nome che poteva suonare bene un po dappertutto poi lui è venuto con questo nome no chissa che ci ha spiegato che cos'era il significato in giapponese sarebbe no pentis caffè un caffè senza mutande nell'epoca degli anni 80 80 anno fa avevano aperto avevano aperto bar con come si dice specchi per terra e ognuno avevano la sua servante a tavola però non ci avevano le mutande dunque il concetto ci ha fatto un po ridere e poi il nome è stato ma ci ha proprio toccato e abbiamo fatto un po di ricerche no pan chissa non si ritrova nessuna parte quello che ricerca no pan chissa su internet a casa sulle nostre pagine è una cosa anche facile certo certo ma la storia è molto molto carina quindi direi che si deve raccontare no perché fa parte del vostro stile quindi il pubblico si deve aspettare a tante sorprese no a cose molto non scontate ecco mettiamola così come vi vedo anche se non sono una grande esperta della musica rock lo devo lo devo dire diciamo che vado un po sul arm di sol come gusti però devo dire che il vostro stile mi ha colpito anche a me così come anche a anche a vittoria chi si occupa dal vostro stile anche vestimentario che il vostro look generale o non lo fa nessuno non avete mai pensato diciamo che diciamo che all'inizio dall'inizio facciamo tutto noi siamo proprio in auto produzione siamo stati pochi aiutati però questi ultimi anni diciamo che in più arrivano gente che ci aiutano sì però vestimentario lo facciamo noi stesso abbiamo deciso noi di vestirsi così ci pensiamo e non è che non ci pensiamo però questo è stato normale come ho detto già il nome è stato molto bene curato complimenti per questo speriamo che anche sulle altre cose saranno sempre così una ricerca e una innovazione visto che ormai siamo nell'era nell'anno proprio della tecnologia perché no possono nascere tantissimi tantissime belle belle idee cosa cosa ti inspira domenico nel per la vostra musica innanzitutto da dove porti l'ispirazione proprio nella vita o storie amici nostre proprio nostre storie anche nelle diciamo le news ci troviamo delle idee per le canzoni noi quando componiamo partiamo proprio dalla melodia e da quello troviamo idea verso che ci fa pensare questa melodia dunque di solito andiamo o a trovare una storia da vicino amici noi stesso o allora andiamo a cercare delle delle parole sulle cose che escono da lei è sempre una chiave un po comica mi mi pare di capire una chiave non ho capito un po comica direi c'è questa influenza un po un'aria di comicità in in modo come è esposto no anche il testo piuttosto tutto quanto penso che è stato sempre l'influenza del nome no o è il vostro spirito del band come vi definite voi come ben bene innanzitutto siete un po a pari no al fatto che all'inizio siamo tutti differenti però il progetto era voluto proprio di fare un gruppo non di di avere un leader ok certe volte abbiamo una persona di uno di noi che dice ok mettiamo le cose giusto così però uno decide ogni tanto però no all'inizio è un gruppo all'interno e vogliamo proprio che ognuno può darsi le sue idee e dare andare mandare avanti i progetti mandare avanti i progetti ottimo quindi unione fa la la forza no fa la squadra io ho sempre pensato così sì che la forza quando si lavora in squadra è sempre meglio quando c'è una persona che decide se quella persona può essere talmente forte però con la forza degli altri insieme si va sempre un penso più in alto assolutamente ma restiamo su su questa idea di unione fa la 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 squadra no ed anche i risultati prendiamo una piccola pausa voi restate qui qui sintonizzati su iris tv a dopo a dopo lo che ho trovato lo che ho trovato non panchisa captain's fall domenico leader no del del band non panchisa ospite qui da noi nel salotto iris tv eh rappresentato non poteva da solo da spotline promotion a vittoria iana cone abbiamo sentito questo pezzo molto originale domenico devo dire la verità captain's fall a cosa hai pensato quando hai creato questa questa canzone ma diciamo per la melodia non ci siamo proprio lasciato un'improvvisazione a un giorno e da quello è uscito la melodia però per le parole diciamo che ci siamo siamo inspirato del dell'attualità un po perché è una canzone che parla di di questa perdita di controllo un po sulle nostre vite tra me questi telefonini diciamo che stiamo più in più entrando dentro la black box perché siamo tracciati diciamo entro questo sì diciamo che sono le le spiegazioni in realtà la chiave di lettura visto che appunto oggi abbiamo avuto il piacere di conoscere meglio no il band non panchisa l'abbiamo capito che per voi non esiste un solo leader ma la squadra no il band l'unione fa la la forza e quindi mi sembrava che la chiave di lettura anche per questo era era giustissima secondo i vostri valori no adesso anche come persone perché siete artisti ma siete innanzitutto delle delle persone ma perché no eh questa unione tra la Belgia e in questo caso questo è un caso no dell'Italia che poi ve lo auguro no di svilupparvi eh in tutti gli altri paesi lì dove innanzitutto il vostro genere è molto molto ascoltato a parte l'Italia dove dove avete lanciato questa questa canzone innanzitutto dunque qui in Belgio l'abbiamo già lanciato eh anche insieme all'Italia non è che abbiamo lanciato e abbiamo visto che state godete già di di un grande successo da questo punto di vista beh diciamo che la gente si interessa questa è già una bella cosa per noi eh poi il fatto che stiamo aprendo piano piano sull'Inghilterra Germania prendiamo contatti il fatto che all'inizio non siamo professionisti proprio della musica dunque è stato un hobby che abbiamo dato proprio al cento per cento perché volevamo dare proprio la forza di fare le cose bene però eh dunque piano piano ci diamo la forza di andare avanti e cerchiamo a trovare le la via giusta per mandare avanti le cose questa è una buona cosa che incontriamo professionisti con il tempo che ci aiutano e questa è una bella cosa con Spotline Promotion ve lo auguriamo di di trovarvi la vostra strada giusta Vicky quali sono i progetti? voglio dire una cosa che è importantissima loro loro sono rappresentati a parte dalla Spotline come promozione comunicazioni ma hanno un'etichetta e hanno firmato da poco un accordo con un'etichetta che è Mare Chiaro edizioni musicali ed è rappresentata da Claudio Poggi Claudio Poggi è stato manager di Pino Daniele ed è grande manager quindi devo dire che per loro è una sicuramente una bellissima opportunità perché un po in qualche modo avere un giorno la possibilità di confrontarsi anche con grandi eh big della musica italiana ed è quello che noi gli auguriamo perché come ho detto prima è una band molto molto forte e secondo me ha delle giuste carte per poter fare delle cose importanti. ecco questo è molto importante perché anche se eh magari la musica può piacere no al al pubblico anche se voi siete molto bravi dobbiamo dirlo che è molto importante la parte del manager piuttosto eh no la la comunicazione così come lo sappiamo anche noi saranno anche tanti altri ve lo auguriamo nel nel vostro percorso no da poter arrivare il prodotto finale no se utilizziamo se utilizziamo i termini marketing giusti specialmente in questi tempi che noi li viviamo concretamente dove vi ascoltiamo non anch'issa dove troviamo la vostra musica in questo momento prima di eh la di entrare nel vero senso della parola sul sul mercato italiano ecco dunque noi è facile da trovare dunque se già mettete no panchisa su un motore di ricerca siete unici che uscite questo trovate forse qualche storia su certi bar giapponesi però normalmente siamo proprio in alto se per prima sulle pagine sembra che abbiamo perso domenico per un attimo finché si riprende la la connessione Vicky vuoi continuare continuare te il discorso penso che avevi capito quello che voleva dire assolutamente comunque loro hanno anticipo un po quello che stava dicendo domenico ehm che praticamente hanno dei su facebook su instagram basta cercare no panchisa e quindi c'è proprio la loro pagina ufficiale forse è ritornato in collegamento così magari ci facciamo dire esatto ce l'abbiamo perfetto perfetto eccolo qui queste sono le belle della diretta e specialmente in questi tempi ma ormai il nostro pubblico si è abituato all'interesse alla sostanza no la qualità dell'informazione del divertimento più dei dettagli tecnici che purtroppo non appartengono a noi facciamo del del nostro meglio domenico mi stavi dicendo con riguardo al sì abbiamo dove ci dove vi possiamo appunto vedere no ascoltare in questo momento sì abbiamo diciamo il proprio il nostro sito già che si chiama no panchisa punto com da là potete trovare tutti i link che vi manderanno su per esempio al band camp dove abbiamo i brani che abbiamo già registrati nel passato eh c'è anche sulla soundcloud eh c'è anche sulla soundcloud eh brani che che abbiamo messo sulla soundcloud che si può ascoltare eh dunque questo sì e poi con il captain's fall che sta girando adesso e quello lì è già su tutti i canali di digitali perfetto e da oggi evidentemente anche sulla air steam assolutamente un augurio per il prossimo futuro domenico da parte di non panchisa sì grazie mille io vorrei tanto dare un buonissimo anno a tutte le persone eh che che ascoltano almeno aeriste che sono fan di aerist tv eh dunque no sì noi speriamo che nell'anno che arriva arriva ancora progetti perché ne abbiamo dietro che che sono pronti assolutamente noi ve lo auguriamo ci auguriamo veramente di avervi eh anche live in un concerto ma fra tempo senz'altro Spotline Production eh si occuperà di di mettere in atto almeno uno virtuale questo è stato una una promessa di Vicky Anacone e tutto il suo l'unica l'unica cosa rispetto dico questa cosa perché con la band sarà un po' più complicato sicuramente organizzare no il fatto proprio di fare dei live ma ci organizzeremo anche su questo per fare anche un duo un trio e e faremo ascoltare certo ma lo sappiamo già noi l'abbiamo già fatto anche da un anno che proviamo a mettere in atto no tutte queste formule quindi impossibile non ci sono inventiamo non possiamo non possiamo promettere una qualità del del che eh sono stati frenati e gli eh specialmente i cantanti no stiamo parlando di di lo specialmente è stato questo ma credetemi che il pubblico ormai ha cambiato veramente versione versione opinione perché è normale non ci sono l'hanno già capito che non ci sono altri modi in cui possono ehm ascoltare ancora no di fare una cosa alternativa di avere solo un materiale perfetto no che magari non transmette quello tantissimo perché lo dobbiamo dire quando è in diretta nel live che fisicamente ma anche in modo virtuale riusciamo a trasmettere diversamente dal materiale perfetto che lo possiamo noi immaginare che può arrivare al nostro pubblico almeno il feedback a quello che noi abbiamo lavorato da un anno è stato questo quindi me lo auguro che riuscite a metterlo in atto noi a disposizione eh di fare la nostra parte almeno nel nostro nel nostro piccolo e veramente vi aspettiamo a a cantare eh poi ascoltate vi lascio concludiamo no eh questa puntata questa eh intervista con il nostro band non panchissa eh appunto ascoltando il Captain Falls salutiamo Spotline Production Vittoria e Anacone ringraziamo eh come sempre per la collaborazione e partecipazione e vi aspetto alla prossima quindi state qui con noi perché le lezioni di stile di Irina Tirdea qui nel saluto di Irina Tirdea continuano a presto ciao non panchissa non panchissa Captain's Fall Domenico il leader no del band non panchissa ospite qui eh da noi nel saluto Iris TV eh rappresentato non poteva da solo da Spotline Promotion a Vittoria Anacone abbiamo sentito questo pezzo molto originale Domenico devo dire la verità Captain's Fall a cosa hai pensato quando hai creato questa 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 canzone? Beh diciamo per la melodia ci siamo proprio lasciato a un'improvvisazione a un giorno e da quello è uscito la melodia però per le parole diciamo che ci siamo siamo inspirato del dell'attualità un po' perché è una canzone che parla di di questa perdita di controllo un po' sulle nostre vite tra me e questi telefonini diciamo che stiamo più in più entrando dentro la black box perché siamo tracciati diciamo entre questo sì diciamo che sono le 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 squadra no il band l'unione fa la la forza e quindi mi sembrava che la chiave di lettura anche per questo era era giustissima secondo i vostri valori no adesso anche come persone perché siete artisti ma siete innanzitutto delle delle persone ma perché no eh questa unione tra la belgia e in questo caso questo un caso no d'italia che poi ve lo auguro di svilupparvi in tutti gli altri paesi lì dove innanzitutto il vostro genere è molto molto ascoltato a parte l'italia dove dove avete lanciato questa questa canzone innanzitutto dunque qui in belgio l'abbiamo già lanciato eh anche insieme all'italia non è che abbiamo lanciato e abbiamo visto che state godete già di di un grande successo da questo punto di vista beh diciamo che la gente si interessa questa è già una bella cosa per noi eh poi dato che stiamo aprendo piano piano sull'Inghilterra Germania prendiamo contatti il fatto che all'inizio non siamo professionisti proprio della musica dunque è stato un hobby che abbiamo dato proprio al cento per cento perché volevamo dare proprio la forza di fare le cose bene però eh dunque piano piano ci diamo la forza di andare avanti e cerchiamo a trovare le la via giusta per mandare avanti le cose questa è una buona cosa che incontriamo professionisti con il tempo che ci aiutano e questa è una bella cosa con Spotline Promotion ve lo auguriamo di di trovarvi la vostra strada giusta Vicky quale sono i progetti voglio dire una cosa che è importantissima loro loro sono rappresentati a parte della Spotline come promozione comunicazione ma hanno un'etichetta e hanno firmato da poco un accordo con un'etichetta che è Mare Chiaro edizioni musicali ed è rappresentata da Claudio Poggi Claudio Poggi è stato manager di Pino Daniele ed è grande manager quindi devo dire che per loro è una sicuramente una bellissima opportunità perché può in qualche modo avere un giorno la possibilità di confrontarsi anche con grandi big della musica italiana ed è quello che noi gli auguriamo perché come ho detto prima è una band molto molto forte e secondo me ha delle giuste carte per poter fare delle cose importanti ecco questo è molto importante perché anche se magari la musica può piacere no al al pubblico anche se voi siete molto bravi dobbiamo dirlo che è molto importante la parte del manager piuttosto eh no la la comunicazione così come lo sappiamo anche noi saranno anche tanti altri e ve lo auguriamo nel nel vostro percorso no da poter arrivare il prodotto finale no se utilizziamo i termini marketing giusti specialmente in questi tempi che noi li viviamo concretamente dove vi ascoltiamo non panchisa dove troviamo la vostra musica in questo momento prima di eh la di entrare nel vero senso della parola sul sul mercato italiano ecco dunque noi è facile da trovare dunque se già mettete no panchisa su un motore di ricerca siete i unici che uscite questo trovate forse qualche storia su certi bar giapponesi però normalmente siamo proprio in alto se per prima sulle pagine sembra che abbiamo perso domenico per un attimo finché si riprende la la connessione di chi vuoi continuare continuare te il discorso penso che avevi capito quello che voleva dire assolutamente comunque loro hanno anticipo un po quello che stava dicendo domenico ehm che praticamente hanno dei su facebook su instagram basta cercare no panchisa e quindi c'è proprio la loro pagina ufficiale forse è ritornato in collegamento così magari ce lo facciamo dire esatto ce l'abbiamo perfetto perfetto eccolo qui queste sono le belle della diretta e specialmente in questi tempi ma ormai il nostro pubblico si è abituato l'interessa la sostanza no la qualità dell'informazione del divertimento più dei dettagli tecnici che purtroppo non appartengono a noi facciamo del del nostro meglio domenico mi stavi dicendo con riguardo al sì abbiamo dove ci dove vi possiamo appunto vedere no ascoltare in questo momento sì beh abbiamo diciamo il proprio il nostro sito già che si chiama no panchisa punto com da là potete trovare tutti i link che vi manderanno eh su per esempio al band camp dove abbiamo i i brani che abbiamo già registrati nel passato eh c'è anche sulla soundcloud eh brani che che abbiamo messo sulla soundcloud che si può ascoltare eh dunque questo sì e poi con il captain's fall che sta girando adesso e quello lì è già su tutti i canali di digitali perfetto e da oggi evidentemente anche su sull'airist tv assolutamente un un augurio per il prossimo futuro domenico da parte di non panchisa sì grazie mille io vorrei tanto dare un buonissimo anno a tutte le persone eh che che ascoltano almeno aeriste che sono fan di aerist tv eh dunque no sì noi speriamo che nell'anno che arriva arriva ancora progetti perché ne abbiamo dietro che che sono pronti assolutamente noi ve lo auguriamo ci auguriamo veramente di avervi eh anche live in un concerto ma frattempo senz'altro Spotline Production eh si occuperà di di mettere in atto almeno uno virtuale questo è stato una una promessa di Vicky Anacone e tutto il suo l'unica cosa rispetto dico questa cosa perché con la band sarà un po' più complicato sicuramente organizzare no il fatto proprio di fare dei live ma ci organizzeremo anche su questo per fare anche un duo un trio e e e faremo ascoltare certo ma lo sappiamo già noi l'abbiamo già fatto anche per da un anno che proviamo a mettere in atto no tutte queste formule quindi impossibile non ci sono inventiamo non li possiamo e la regina certo non possiamo promettere una qualità del sono stati frenati specialmente i cantanti no stiamo parlando di di voi specialmente è stato questo ma credetemi che il pubblico ormai ha cambiato veramente versione opinione perché è normale non ci sono l'hanno già capito che non ci sono altri modi in cui possono ehm ascoltare ancora no di fare una cosa alternativa di avere solo un materiale perfetto no che magari non transmette quello tantissimo perché lo dobbiamo dire quando è in diretta nel live che fisicamente ma anche in modo virtuale riusciamo a trasmettere diversamente dal materiale perfetto che lo possiamo noi immaginare che può arrivare al nostro pubblico almeno il feedback a quello che noi abbiamo lavorato da un anno è stato questo quindi me lo auguro che riuscite a metterlo in atto noi a disposizione eh di fare la nostra parte almeno nel nostro nel nostro piccolo e veramente vi aspettiamo a a cantare eh poi ascoltate vi lascio concludiamo no eh questa puntata questa eh intervista con nel nostro band non panchissa eh appunto ascoltando il eh Captain Falls salutiamo Spotline Production Vittoria e Anacone ringraziamo eh come sempre per la collaborazione e partecipazione e vi aspetto alla prossima quindi state qui con noi perché le lezioni di stile di Irina Tirdea qui nel saluto di di Iristv continuano a presto ciao